Buona serata, nuovo appuntamento con Detto Tra Noi, il talk show del giovedì di Telestense e del venerdì di Telesanterno che vi accompagna come sempre con varie tematiche, vi anticipo quelli che saranno gli ospiti a seguire nelle prossime due tranche, avremo il geometra Simone Bonazzi che tra l'altro è un amico di Telestense per vari motivi, anche Spallini con cui parleremo di edilizia e poi avremo anche un caso molto interessante legato a Francesco Gattus, parleremo dell'area disabili della provincia di Ferrara, ci racconterà la sua storia e soprattutto come si evolve la sua attività. Cominciamo subito però parlando di cultura, di beni culturali, di attività legate appunto alla promozione dei luoghi, del cuore diciamo che ci caratterizzano sia nel nostro territorio ma a livello regionale, parliamo con Carla Di Francesco a cui do il benvenuto, presidente del FAI Emilia Romagna. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. Allora grazie intanto per essere con noi perché noi ce l'avamo visti, lo diciamo apertamente, questo è un programma molto libero, ce l'avamo visti in altre circostanze e lei giustamente mi ha fatto notare, guardi che il FAI opera tutto l'anno, ci sono tante cose da raccontare, non soltanto nelle due giornate all'anno in cui vediamo le giornate FAI di primavera e quelle di autunno. Ed effettivamente è così, noi godiamo noi italiani di un patrimonio incredibile, troppo spesso forse non sufficientemente conosciuto e lei da due anni ha sposato questo ruolo importante diciamo che comunque conosceva già da tantissimo tempo ovviamente, vista la sua carriera. Allora intanto spieghiamo che cos'è il FAI, che cos'è per chi non sapesse esattamente che cosa fa e che ruolo ricopre. Il FAI è una fondazione, oggi terzo settore, che si occupa dal 1975 di beni culturali e paesaggio e ambiente con diverse azioni. I fondatori, Corrado Bazzoni, Giulia Maria Crespi, Elena Croce, cioè una serie di persone che si ponevano il problema allora di un'Italia dal punto di vista dei beni culturali e del paesaggio un po' abbandonata e forse anche molto devastata, soprattutto dal punto di vista del paesaggio. Allora hanno detto dobbiamo fare e questo fare ha avuto inizio con il prendersi cura di un po' di beni, beni culturali che non erano abbandonati ma che comunque li avrebbero potuti mettere alla prova. Il castello di Avio, il monastero di Torba, San Fruttuoso e tanti altri, poi dopo è arrivata Villa Necchi Campiglio ma nel frattempo Villa Panza di Biumo e questi sono solo quelli che sono arrivati tra i primi. e quindi mettersi alla prova con la gestione diretta di un gruppo di privati e il tema però più generale è quello di capire e far capire, comprendere e far comprendere cosa sono e qual è l'importanza nella nostra civiltà, nella nostra società appunto i beni culturali, il paesaggio e l'ambiente e quindi nasce a ridosso ma subito dopo l'attività ampia del FAI di collaborazione con gli enti, collaborazione con le persone, di un volontariato diffuso e diffusissimo in tutta Italia. Le sezioni, le delegazioni e le presidenze FAI sono sparse in tutta Italia, non c'è pezzo d'Italia che non abbia una delegazione FAI che se ne occupa e che ha gemmato i gruppi FAI giovani, i gruppi locali che sono tutte sentinelle sul nostro territorio, sentinelle che ormai, parlo solo della regione Emilia Romagna, sono un numero di circa nove delegazioni, più di dieci gruppi e altrettanti gruppi giovani. L'attività è capillare come si usa dire oggi, è un'attività dei volontari dal basso che si occupa di conoscere il proprio territorio a fondo e nelle occasioni delle giornate di primavera e delle giornate di autunno di creare le occasioni appunto per porgerle al pubblico e farle conoscere spesso sotto gli aspetti più nascosti nella loro vita storica, di farle conoscere appunto e quindi apprezzare e dare un contributo così all'amore per la bellezza da un lato, la cura e l'amore per l'ambiente. Insomma devo dire che anche da come ce lo racconta traspare una grande passione, poi insomma lei comunque la sua vita l'ha dedicata a quelli che sono i beni culturali, l'architettura, tutto il bello diciamo che troviamo nel nostro paese non solo e quindi diciamo che anche con questa sua attività che ricopre da un paio d'anni continua per quello che riguarda l'Emilia Romagna a portare avanti e a rilanciare, a rivalutare insomma magari anche porzioni del nostro territorio non conosciuto o comunque in mano a privati. Io ho una curiosità che ho da sempre, le dico la verità, come si individuano i posti, le località, i monumenti che poi vengono mostrati al pubblico? Perché insomma parliamo di privati, parliamo di contatti, ci sarà una trattativa immagino o un qualcosa per cui bisogna cercare di arrivare all'obiettivo prefissato? Oh certo, è una grande conoscenza, un inserimento che i nostri volontari hanno, i capi delegazioni in particolare ma anche i loro delegati, della società in cui vivono e dei luoghi in cui vivono. Non è necessario certamente essere esperti di ambiente, di paesaggio o di beni culturali per essere un delegato, però bisogna essere curiosi, cercare di capire dove si vive, prendere i contatti e come dire, sviluppare le idee non solo per la conoscenza, come dicevo prima, una conoscenza un po' particolare di quelli che sono i beni anche che abbiamo sotto gli occhi che sono acclarati, ma anche quelli che davvero nessuno conosce. Partecipano con noi, con i nostri volontari, sia gli enti pubblici sia i privati che volentieri aderiscono alle proposte dei nostri volontari, che talvolta devo dire sono proposte veramente singolari ma proprio di questioni di luoghi totalmente sconosciuti. Le potrei fare una carrellata di esempi, ma le dico solo una cosa che quest'anno nelle nostre giornate è stata davvero singolare, apertura degli archivi Mazzini a Massa Lombarda. Allora io dico, questo proposto dai nostri volontari del gruppo di Lugo, dico ma ci sarà un archivio, un archivio storico e invece no, sono gli archivi della moda, è un collezionista privato che ha un intero capannone di capi d'abbigliamento delle collezioni storiche dei grandi marchi e sono tuttora vivi, consultabili e li vanno a consultare e loro li prestano per le nuove collezioni degli stilisti. È una realtà incredibile. A parte che devo dire è molto curiosa questa cosa, io invito chi ci sta seguendo, visto che ci seguono anche non solo da Ferrara ma da tutta Emilia Romagna, annotatevi quello che ci sta dicendo, poi sarà immagino una piccolissima percentuale di quello che potrebbe evidenziarci perché insomma ogni volta devo dire, stupite anche me, anche solo parlando del territorio ferrarese, immagino andando anche altrove, anche se devo dire nelle giornate fai di primavera avete toccato dei punti in realtà banali ma in realtà non così banali perché andare a vedere il comune di Ferrara, a parte il fatto che non capita tutti i giorni, magari capita a noi giornalisti per andare alle conferenze stampa, però magari uno ci va perché non so, ha un problema, qualcosa da risolvere, una questione burocratica, però non va a visitare il monumento, tra virgolette, comunque l'edificio, comunque la storia e la cultura, ecco voi avete fatto questo e non solo col comune di Ferrara, quindi andando a far conoscere particolari che magari la gente neanche si immagina e questo è il fatto, cioè non soltanto non conosce ma neanche ci pensa tra virgolette insomma a quello che potrebbe nascondere. Sì, sì, è proprio così, sono anche quando il nome più che noto, Castello Estense, Palazzo Ducale, anche quando il nome è noto c'è una serie di luoghi e di storie che sono raccontate in maniera, in maniera diciamo assai particolare e tutto ciò che noi non conosciamo anche delle cose famose. Vorrei anche aggiungere che tutta questa attività delle giornate avviene non solo per forza dei nostri volontari ma anche con l'estrema collaborazione delle scuole perché i giovani e gli apprendisti ciceroni concordati, la cui preparazione viene concordata e realizzata dei loro insegnanti, è una delle più belle cose che si possono vedere durante le giornate. Sono tante le scuole che aderiscono, tanti i ragazzi che fanno questa esperienza di conoscere un monumento, un luogo, una parte del paesaggio, del loro territorio e quindi è per loro un'occasione formativa, formidabile, fatta insieme alle loro scuole e dai nostri e poi un'occasione di formazione anche nei confronti di un pubblico che viene ad ascoltare. Guardi, allora se mi consente, poi ridiamo subito la parola di nuovo, visto che ha prestato il fianco a questo discorso, abbiamo proprio un servizio realizzato dalla collega Antonella Vicenzi, registrato alle ultime giornate fai di primavera, in questo caso siamo appunto a Palazzo Ducale, quindi nel municipio di Ferrara. Gli studenti sono quelli del Roiti, ma sono state tantissime le scuole coinvolte e Antonella ha fatto per noi alcune domande. Direi di sentirle e poi le commentiamo. Certo. Io mi chiamo Mari Joenne, Sofia Mezzacurati. Scuola? Siamo del liceo scientifico Antonio Roiti, quarta G, beni culturali. Dove ci troviamo? Allora, qua siamo nelle stanze nobili del Palazzo Ducale, in stile rinascimentale, con le decorazioni volute da Ercole I d'Este. Qua siamo nella stanza dorata, infatti prende il nome dalle rosette presenti sul soffitto. Che cos'altro racconterete al gruppo che sta arrivando? Allora, la Camera Dorata è stata fatta tra il 1472 e il 1481, per volere di Ercole I d'Este, e nelle piantine del 1600 il Palazzo Ducale era suddiviso in due piani, il piano terra e il piano superiore, mentre a partire dalla fine del 1700 troviamo la presenza di un piano ammezzato. Nome? Giovanni Cavallini. Davide Lolli. Studenti del? Liceo Roiti. Classe quarta G dell'indirizzo beni culturali. Allora, oggi voi avete un compito, in realtà siete ciceroni, primo anno? Sì, sì, il primo anno appena... Sì, sì, è il primo anno anche per me. Che cosa avete raccontato questo gruppo che sta adesso andando in un'altra parte del comune? Insomma, abbiamo raccontato del tentativo di una congiura sventata, per fortuna, nel 1476, il primo settembre, tra Nicolò, sostenitore, e Ercole, secondo, scusate, Duca Estense. Significa studiare la storia? Sì, studiare ciò che c'è all'interno dei saloni, la storia appunto dei saloni e... Com'è? È bello? Ah sì, devo dire che a me piace. Questa è un'esperienza che vi formerà anche in un futuro, cosa da grande, cosa vorrai fare? Di preciso non ho ancora un'idea di quello che vorrò fare, però sicuramente è un'opzione. Sì, sicuramente ammetto che ci insegna molto, soprattutto ci butta dentro al mondo del lavoro, secondo me. Alla fine questo è un piccolo impiego per queste due giornate. Ecco, al di là di questo impiego, mettiamola così, però insomma per questi ragazzi penso che sia un modo di apprendere molto più coinvolgente, molto più appagante anche, perché ovviamente non fai solo per il tuo bagaglio culturale, ma ovviamente divulghi a terzi quello che magari tu stesso hai imparato in maniera anche con un po' di stupore, perché questi ragazzi anche raccontando queste vite che ci riportano ai tempi medievali, o comunque insomma tempi ormai lontani, hanno riscoperto tanti dettagli che ovviamente non conoscevano. E certo, intanto la storia ha dei luoghi, poi questi luoghi hanno a loro volta una storia, perché quello che abbiamo visto è praticamente ancora quasi un cantiere, e c'è un depauperamento delle condizioni, delle decorazioni, per cui si pongono dei problemi, perché sono così come era prima. Insomma, c'è tutto quello che riguarda la storia dell'edificio, ma c'è la storia reale. Qui ci abitava Ercole I, e chi era Ercole? Era il padre di Ercole, ma com'è la storia della mia città? Si inducono anche delle forti curiosità, non c'è dubbio, e questo può essere comunque un'opzione, certamente per un pensiero in più per il futuro, ma è soprattutto un bagno nel mondo della realtà, che ti induce curiosità, ma nello stesso tempo ti forma come persona. Ecco, tra l'altro mi è molto piaciuto anche se dire l'intervista ai ragazzi, ma ce ne servono tante altre, però parlando di pensieri, volevo solo aprire una piccola parentesi, oggi abbiamo salutato una persona di profonda cultura, una persona a cui Ferraro era praticamente legata, parliamo di Michele Pastore, quindi di Ferraro Decus, di cui è stato presidente per lungo tempo, e so che comunque era anche un suo amico personale, una persona con cui avete collaborato, e c'era anche qualcosa in cantiere volendo, non so se si può dire questo. Lo possiamo accennare, beh, Michele è stato un amico di tanti anni, proprio è stata una delle prime persone che io ho conosciuto a Ferraro, allora era un professionista che si occupava di restauro, e tra i diversi, uno di quelli che ho frequentato anche personalmente, successivamente di più, quindi un caro pensiero a Michele, e rincontrato, dopo la mia pausa milanese piuttosto lunga, rincontrato negli anni appunto in cui lui era presidente della Ferraria Decus, che poi lo era tuttora, e avevamo, lui stesso mi aveva accennato ad una idea che trovo, io ho trovato di grande interesse, che è quello di porre attenzione ad una chiesa dimenticata, che credo molti ferraresi ormai non sappiano neppure più cos'è, cioè la chiesa di San Bartolo. Noi lo conosciamo come presidio medico, insomma, come ospedale, però la chiesa di San Bartolo, oltre a mostrarci quei meravigliosi affreschi che sono in Pinacoteca Nazionale, nel salone, ha ancora molte decorazioni all'interno della chiesa, e lui mi aveva così sollecitato, anche quando ero al ministero, a prendermene un po' cura con assegnazione di fondi, cosa che allora è stata fatta, e con però un tentativo di porci noi dal basso, come gruppi, associazioni, cittadini impegnati, per sollecitare il suo, se non il suo recupero all'uso, quanto meno la sua vera conservazione, perché oggi dimenticata, si sa che le cose dimenticate deperiscono. Magari un obiettivo, anche per ricordarlo in futuro, insomma, vedremo se sarà possibile. Probabilmente il FAI di Ferrara la lancerà poi come un'idea possibile per un comitato che ne promuova il luogo del cuore. A proposito di luoghi del cuore della prossima edizione, a proposito di luoghi del cuore che è una delle campagne più belle di civilizzazione, diciamo così, o comunque di conoscenza, di territorio, del FAI, volevo dire che quest'anno noi abbiamo, nel corso dello scorso anno, ma quest'anno, abbiamo avuto i risultati della campagna del cuore, appunto, 22-23, abbiamo avuto un successo grandissimo con la via Vandelli. È sempre un oggetto estense. Via Vandelli, la via progettata tutta all'interno allora del ducato estense che arrivava fino a Massa, è che era una via progettata, progettata da questo eclettico soggetto della cultura, siamo nel Settecento, della cultura estense, che collegava appunto Massa Modena, Sassuolo e Massa. Quindi la via del Ducato. Era una via commerciale che faceva trovare al ducato estense lo sbocco verso il mare. Oggi è diventata, sta diventando, anche grazie alla campagna FAI, un cammino molto frequentato da persone che vengono da molti luoghi che non sono l'Emilia Romagna. E siamo arrivati nella campagna nazionale quarti, con un successo enorme, un numero di voti davvero stratosferico. Allora io credo che se dovessimo parlare di tutte le eccellenze che ci sono in Emilia Romagna, potremmo andare avanti 12 ore con questo programma, forse anche di più. Le chiedo però, che cosa succede? Come lavorate? Che cosa accade al FAI quando non ci sono le due giornate? Perché ovviamente il pubblico vi conosce, vi frequenta nel momento della primavera e dell'autunno, però ovviamente voi lavorate tutto l'anno. Ecco, poi ci sono anche altre iniziative. Che cosa sta succedendo per esempio in questo periodo in cui magari si lavora anche in prospettiva di quelle che saranno le giornate d'autunno? Beh, ci sono sempre attività. Ogni delegazione compila un suo programma trimestrale, all'incirca, dove realizza quelli che sono gli eventi locali. Cioè, sono eventi di visita, di conoscenza, di escursioni. L'escursionismo dal 2020, dal lockdown in poi, è esploso. Escursioni, ma sono comunque sempre conoscenze del territorio, dei territori limitrofi e attività conoscitive, anche piccoli corsi, sia di storia locale, sia di temi più generali, un po' a seconda di quello che i delegati ritengono di interesse per gli iscritti. Non ci dimentichiamo appunto che abbiamo ben 18.000 iscritti nella sola Emilia Romagna, quindi ce n'è un po' per tutti. Bisogna progettare per tutti i gusti. Un'altra, le attività quindi sono molteplici, locali, con scambi anche fra le delegazioni di luogo in luogo, di mostre e di conoscenze di tipo appunto culturale, paesaggistico, le più varie. Un'attività di tipo molto particolare che ha inventato la presidenza Emilia Romagna è quella che è svolta in collegamento con la regione Emilia Romagna attraverso una convenzione e sempre in convenzione con l'Associazione Regionale delle Bonifiche. Anzi approfitto per ringraziare il Presidente Vincenzi per tutti, così come approfitto per ringraziare l'assessore Felicori per tutto lo staff della regione che ci segue, che ci dà idee e con la quale collaboriamo. Con l'Ambi abbiamo incentivato questo grande amore per lo specifico che è il nostro territorio. Diciamoci che senza le bonifiche, senza l'attività delle bonifiche, noi ferraresi saremmo praticamente sott'acqua. Io credo che il nostro territorio sia quello che deve essere più grato assolutamente alle bonifiche. Diciamolo, ma al di là di questo c'è una sapienza di gestione e di manutenzione, di territorio e di sicurezza che è veramente un fiore all'occhiello e che bisogna conoscere e che i cittadini devono conoscere. E quindi conoscenza delle, quelle che chiamiamo le cattedrali dell'acqua, come gli impianti idrovori che andiamo periodicamente a visitare, appunto anche negli eventi locali. Così come gratitudine per la regione Emilia-Romagna, con la quale l'ultima attività che abbiamo messo in campo è quella di sviluppare la conoscenza in quest'anno 2023 della figura del grande artista neoclassico Felice Gianni che ha lavorato principalmente, lo conosciamo come artista, che ha lavorato tra Faenza e Bologna, ma soprattutto Faenza, ma che ha portato la sua equip anche in altri luoghi, anche a Modena, anche a Ferrara, anche a Ravenna, anche se le opere non sono tutte rimaste, a Ferrara sì, a Bologna certamente, e Faenza il suo fiore all'occhiello. Perché il 2023? Perché è il 200esimo anno della sua morte, quindi c'è una forte attenzione per riscoprire il neoclassico in Emilia-Romagna, con punta di diamante, appunto a Faenza, e in particolare a Palazzo Milzetti, che vorrei citare per la sua davvero straordinarietà. Non dico altro, spero che i nostri spettatori pensino di andarci comunque a fare un giro, perché sia anche indipendentemente dal FAI, perché è un museo statale aperto normalmente. Allora, io guardi, avrei tante altre cose da chiederle, ma purtroppo il tempo è scaduto, per cui io... No, ma guardi, ma lo so che vola, perché poi tra l'altro lei è molto appassionante, ecco, in quello che racconta. La ringrazio perché come è appassionato a me, credo che sarà stato così anche col pubblico che ci segue da casa in questo istante. Questo, diciamo, è un arrivederci, nel senso che adesso devo salutarla, ma si tenga libera che magari tra un mese, due, potremmo anche rivederci e continuare ad aggiornare sull'attività del FAI, magari anche, perché no, avere qualche spunto in più, qualche domanda che potete avere anche da casa e vedere un po' di ulteriormente andare a spaziare in quelle che sono le vostre attività, che sono molteplici e soprattutto, insomma, raccontare quanto di bello c'è attorno a noi, anche quello che non conosciamo. Per cui, intanto, le ringrazio per questa ospitata, è stato davvero un piacere e ovviamente le auguro un buon proseguimento con la sua presidenza. Grazie, a presto, grazie a voi. Grazie, grazie mille dunque a Carla Di Francesco. Noi adesso ci fermiamo in pubblicità, tra poco invece cambiamo argomento, sarà con noi il geometra Simone Bonazzi, quindi rimanete con Detto Tra Noi. Continua l'appuntamento con Detto Tra Noi, grazie ancora dunque a Carla Di Francesco, presidente del FAI Emilia Romagna. Adesso invece, ve l'ho anticipato poco fa, torna di un amico di Telestense, anche e soprattutto di altri programmi, anche se oggi lo intervistiamo nella veste di professionista, il geometra Simone Bonazzi. Simone, buonasera, benvenuto. Ciao Nicola, buonasera a tutti, grazie di questo invito. Allora, intanto stai sicuro che una domanda sulla spalla arriverà lo stesso, ma questa la teniamo in secondo momento, anche perché chi segue me ci sa benissimo che Simone è spesso il nostro ospite per commentare i bianco-azzurri. Un momento delicato, ma insomma ne parliamo dopo. Parliamo dopo, dai. Parliamo invece del tuo studio. Studio Bonazzi, tu sei geometra, sei un professionista ormai da tanti anni. Ecco, io vorrei cominciare proprio da spiegare, nello spiegare che cos'è lo studio Bonazzi, come nasce, come sei entrato a fare questa attività, dopo ovviamente il diploma e l'abilitazione, che sarà arrivata ormai, non voglio sapere quanti anni hai, però insomma sono passati più di vent'anni abbondanti, credo, giusto? Beh dai, non ho segreti, non ne faccio segreti di Pulcinella, io ho 45 anni, quindi lo studio Bonazzi apre nel lontano 2000, volutamente aperto nel venerdì 17 del 2000. Ah, addirittura? Ho voluto sfatare questo mito, sì. Sai che io adoro queste cose, anch'io amo andare controcorrente, quando ci sono queste superstizioni. Nella mia vita sono sempre stato rincorso in questi due numeri, tra il 13 e il 17, che per la cultura anglosassone porta rispettivamente fortuna o sfortuna. Certo. E allora il venerdì 17 decisi di aprire il mio studio, era uno studio fatto principalmente ed esclusivamente da me, con una scrivania, e allora c'era il tecnico, perché si disegnava ancora a mano, quindi sembra che stia parlando di 50 anni fa. In questi vent'anni la tecnologia ha cambiato tutto, vedo anche nella nostra professione alla fine dei conti, perché ormai se non vai in onda anche su YouTube, se non hai condivisione sui social, insomma sembra che veramente sei un programma azzoppato, quindi immagina maggior ragione nel tuo lavoro. Esattamente, tu provi a immaginare che nel 2000, per fare la documentazione fotografica delle pratiche, delle periste che svolgevo, avevo comprato una Polaroid. Fantastica. Ce l'hai ancora? Ce l'ho ancora. E questa Polaroid durò l'esatto arco temporale di un anno, e poi cominciarono a uscire le prime macchine fotografiche digitali. E quindi l'ho messa nel suo sacchetto, conservata nella sua confezione originale, adesso pare che valga anche tanti soldini questa macchina fotografica, perché subito dopo la Polaroid fa lì, se ti ricordi. Certo. Quindi, per me questo piccolo oggetto è diventato un po' il simbolo del tempo che è trascorso. Quindi, insomma, tutto ciò che è vintage diventa un po' una rarità, alla fine dei conti acquista un valore. Ecco, Simone, però, poi entreremo nel dettaglio, perché con te voglio parlare di mercato immobiliare. Ricordo che ci fu un'intervista di qualche anno fa a te, appunto, in un altro programma in cui parlavamo proprio di questo, però volevo capire, diciamolo pure, lo dico io, insomma, una storia di successo, visto che hai cominciato ormai diversi anni or sono, con questa data assolutamente scaramantica, e che ti ha portato sicuramente fortuna. Però, insomma, tu hai iniziato da giovane, ti sei avventurato subito in maniera autonoma. Ecco, com'è stato lanciarsi in questo? Perché credo che comunque il tuo esempio possa essere un esempio valido anche oggi. Cambiano i tempi, cambiano le tecnologie, ma, insomma, lanciarsi quando sei molto giovane è sempre molto rischioso. Lanciarsi quando sei giovane è bello perché sei incosciente. Se avessi saputo cosa mi sarebbe aspettato nel tempo a venire, chissà, forse, se avrei fatto questo passo. Sì, sono nato professionalmente da zero. Io sono nato che non avevo nessun tipo di cliente, per cui i primi lavoretti li ricordo ancora con grande piacere e quasi nostalgia. Perché, guarda, ricordo in assoluto la mia prima pratica, che fu l'apertura di un passo carrabile. Addirittura? Sì. Chissà quante multe ne sono venute fuori dopo, eh? Quello fu il mio primo lavoro. Poi, sai, la libera professione nasceva all'epoca nel passaparola, per cui dovevi avere la pazienza, il tempo, l'abnegazione, di poter attendere che le persone cominciassero a conoscerti, farti conoscere, dimostrare che eri una persona seria, dimostrare che eri una persona puntuale, per cui è stato anche un percorso. E questo come avviene nel tempo? Cioè, il passaparola? Come è cresciuta la tua popolarità, diciamo, in ambito professionale? Ma, ehm... Ogni volta... Ogni lavoro nuovo è stato un passettino in più. Quindi sono passato dal passo carrabile, alla piccola ristrutturazione, alle consulenze. Poi ci fu un punto di svolta dove accettai in maniera molto incosciente di fare delle consulenze a livello bancario e da lì cominciai a prendere la specializzazione come perito bancario, no? Facevo i sopralluoghi dedicati all'erogazione del credito. Ah, interessante. E naturalmente dovetti accettare quello che i professionisti più, non voglio dire vecchi, ma più esperti, non accettavano. Pertanto accettavo le zone più impervie. Quindi andavo nel basso Veneto, sono arrivato fino a Porto Tolle, tanto per darti un'idea, no? Quindi a basso costo, ovviamente. Certo. Perché eri l'ultimo arrivato. E sai, ovviamente quando sei l'ultimo arrivato devi un po' accettare dei compromessi che non sono sempre semplici e forse, non so, magari non tutti sono disponibili ad accettarli. Quindi probabilmente questo ti avrà comportato un periodo di difficoltà, ma un periodo che ti ha comunque fatto le ossa grosse, non so come dire, con le spalle. Mi ha comportato le difficoltà naturalmente del momento, perché non è che hai chissà quali ricavi. Però ti posso assicurare che l'accettare di fare questo tipo di gavetta mi ha aperto successivamente a tutta una serie di conoscenze che ancora oggi coltivo, ancora oggi porto avanti, che hanno contribuito alla crescita dello studio e a quello che siamo diventati oggi. Certo. Quindi insomma il rapporto che si ha con un cliente è fondamentale in pratica. Il rapporto che si ha con un cliente diventa quasi familiare a un certo punto. Io ho dei clienti che frequentano lo studio da più di vent'anni. Certo. E non sempre passano perché devono parlare di lavoro. Quasi sono come il medico di famiglia delle volte. Ho sentito i racconti più disparati, le confidenze più disparate, le crisi familiari, le ho vissite tutte. Vabbè, che detto così effettivamente rende ancora più accattivante quello che fai. Poi magari capisco che volte ci sono anche quei momenti in cui non hai tempo, non avresti tempo per ascoltare, ma lo si fa un po' per amicizia, e un po' anche perché comunque si crea questo rapporto di fiducia reciproca. Che è molto bello devo dire perché quando uno si racconta e racconta la propria vita privata, poi vuol dire proprio che ti fidi completamente della persona che hai di fronte. Ho detto la parola Cardi nel tempo. In questo momento, dagli inizi a oggi, la questione del tempo è sempre la questione fondamentale. Sia nei tempi che ti chiede il cliente, che sono sempre più stretti, perché quando tu arrivi a un'esigenza, la tua esigenza è sempre al primo posto rispetto a quella degli altri. In realtà tutti sono sullo stesso piano e sulla moltitudine di impegni il tempo la fa da padrone. Ma questa moltitudine di impegni ti ha portato ad allargare il tuo studio? Hai dei dipendenti, hai delle collaborazioni? Come funziona oggi? Nel corso del tempo ho avuto diverse figure che hanno gravitato all'interno dello studio. Adesso ho una persona da cinque anni che è diventata il mio collaboratore fidato, in che senso di lui non riuscirei a gestire un po' tutto. Più naturalmente cedo molte volte e chiedo aiuto a professionisti esterni perché ci possono dare una mano. Certo, si crea una rete di collaborazione fondamentale. Una rete di collaborazione è sempre fondamentale anche perché la figura del geometra, è vero che è polivalente, ma tu non puoi sapere tutto. Pertanto ci sono colleghi che si sono specializzati su certi tipi di rami professionali per il quale chiedi sempre aiuto. Ecco allora, Simone, entriamo nel vivo di quello che è il momento attuale. Io appunto, giustamente tu me l'hai ricordato anche prima a Fuorionda, anni fa facevamo un programma chiamato Una casa per amico, dove eri stato ospite e tipo cinque, sei anni fa ti chiesi se era il momento buono per acquistare casa. E lo era, giusto? All'epoca era un momento buono per acquistare casa. Ecco, poi devo dire che siamo arrivati in un periodo in cui è un po' cambiato il mondo e il Covid sicuramente ha stravolto tante cose, anche il mercato immobiliare. Oggi siamo nel 2023, periodo, chiamiamolo ormai superato, legato al Covid, ma insomma ancora ci sono comunque delle distorsioni da questo punto di vista. Che tipo di momento è quello che stiamo affrontando? Il momento è particolare perché arriva, molti analisti lo fanno coincidere come la fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Cerco di spiegarmi meglio. Abbiamo avuto un ciclo immobiliare molto lungo, che va dal 2009 fino al 2019, per la quale c'è stata una grossa crisi del settore bancario e di conseguenza porta con sé tutti gli strascichi sul livello immobiliare. Arriva il Covid e fa piazza pulita di quello che erano le certezze sia di tutti noi, sia del mondo del mercato. Quando siamo usciti di casa, ha terminato il Covid, è cominciata una rimpresa molto forte, che se lo si vede anche dei numeri, come vediamo questa ripresa del PIL, che è stata abbastanza forte e vehemente, e ha avuto una ripercussione anche sul mercato immobiliare. Per contro la Banca Centrale Europea ha aumentato molto i tassi, pertanto abbiamo notato che comunque, nonostante ci sia un rialzo dei tassi molto repentino, il mercato immobiliare è in continua crescita. E in continua crescita anche perché c'è un calo dell'offerta. Perché subito dopo Covid c'è stata una rincorsa agli immobili che potevano dare più spazio. Ecco, bravo, guarda, così mi anticipi la domanda che ti volevo fare, insomma, su come sono cambiate le esigenze, perché... Sembra preparato, ma questa imboccata non lo era. Assolutamente non lo era, però, anzi lo garantisco anch'io, però effettivamente torniamo a un tema che è stato molto affrontato, appunto, augurandoci che non capiti più quello che è capitato, perché credo che anche la gente difficilmente si accetterebbe di rimanere chiusa in casa, come è successo tre anni fa. Però insomma, a prescindere da quello che è capitato ormai e fa parte della nostra storia, sicuramente ci siamo ritrovati in un contesto in cui tutti viviamo, tutti, molti diciamo, viviamo in appartamenti piccoli, comunque in un qualcosa dove finché mangi, dormi e ci fai le cose essenziali durante la giornata, boh, però la maggior parte di noi vive comunque fuori casa durante il giorno, chi per lavoro, chi per divertimento, tutto il resto. Quindi vivere 24 ore su 24 in un appartamento, effettivamente, è qualcosa di molto difficile. Quindi probabilmente è cambiata un po' l'esigenza. Quindi oggi la gente che cosa chiede? Chiede degli appartamenti più grandi, più periferici? Le esigenze sono cambiate molto. Dopo Covid c'è stata un'esplosione di richieste di immobili fuori dal centro, o comunque potessero avere un po' di spazio, un po' di giardino, un po' di aria aperta, sempre vivendo nel terrore che quel periodo potesse tornare. Tanto è vero che la conclusione del Covid e l'inizio anche di quello che, di questi famosi bonus edilisti che tanto fanno parlare, hanno fatto parlare, il famoso 110, ho visto vendere immobili che prima di questa situazione non sarebbe mai potuto accadere, cioè dei veri e propri erudiri in campagna dove la gente, grazie anche agli aiuti fiscali, era disposta a sistemare pur di uscire dal centro cittadino o dagli spazi distretti in cui hanno dovuto abitare. Ma al di là del bonus, disposti anche a investire quantità di denaro importanti? Sì, sì. Ci è visto un certo quantitativo di capitali voler avere l'idea di investirli negli immobili, anche perché ricordiamo sempre che con tassi molto bassi l'investimento di tipo finanziario non ha un grande riscontro. Certo. Pertanto è stato più opportuno investirlo nel classico mattone. Senti, ma oggi invece, visto che tu operi nel centro di Ferrara, sei in via Saraceno, quindi sei proprio nel cuore della città, chi è che vive il centro storico? Al di là di quelli che magari ci vivono da sempre. C'è del movimento? Perché insomma so che appunto Ferrara è una città molto viva dal punto di vista universitario, per esempio. Ecco, questo è un segmento che sta funzionando? Questo è un segmento che sta trainando la città, sia in termini numerici, sia in termini economici. Si è vissuto un periodo, purtroppo dobbiamo sempre tirare fuori l'ante-covid e il post-covid. Ancora ci perseguiterà per qualche anno questa deadline. Prima del covid la città di Ferrara era una città che si stava attrezzando all'accoglienza di tipo studentesco. E tanto è vero che già all'epoca molti appartamenti venivano sistemati, ristrutturati in virtù di questa accoglienza. Quando poi è arrivata la pandemia, la paura dei piccoli proprietari di non tornare più al momento in cui si era vissuto, hanno locato agli affitti a lungo termine, quindi il classico residente. Pertanto parte del patrimonio che era destinato allo studente è stato depauperato ed è stato vincolato in termini lunghi. Ho capito. Quindi quando sono rientrati gli studenti a pieno ritmo, anche grazie all'Università di Ferrara che ha... Guarda, ti posso dire, gli ultimi numeri parlò di 28 mila studenti. Esattamente. Tra i ferraresi e non, però molti vengono fuori. Esattamente. Parte di questo patrimonio non era più disponibile, per cui si è avuto una grossa mancanza di offerta per tutte queste persone. Parallelamente quindi cosa si è visto? Si è visto che anche grazie a certe scelte dell'amministrazione comunale, corrette dal mio punto di vista, di riallocare e risistemare quelle vecchie strutture alberghiere che erano state chiuse col Covid. Tant'è vero che ci sono due strutture in particolar modo e una terza verrà aperta, in cui le vecchie destinazioni alberghiere verranno destinate ad uso foresteria e destinate per gli studenti. Ma si parla quindi di numeri importanti? Di numeri non importanti rispetto alla richiesta, ma di certo di un discarito numero. Che scuole, parliamo con... danno un alleggerimento. Danno un alleggerimento, assolutamente. Quindi questo... Però se non altro, ecco, queste strutture che vedevamo morte stanno tornando a vivere anche grazie a questa situazione. Quindi c'è un ripopolamento del centro storico grazie appunto a chi è arrivata fuori fondamentalmente. Con tutti i problemi del caso, con poi quei vecchi residenti che si lamentano del rumore. Eh, vabbè, quello classico. Tutte queste cose. Vabbè, poi ricordo le tante polemiche legate, non so, faccio un esempio, via Carlo Maier che ci sono i locali. Certo, certo. Del resto è così, penso in tutte le città d'Italia e probabilmente anche nel mondo, insomma, chi vuole la città più tranquilla, chi la vuole più movimentata, insomma, metter d'accordo a tutti è sempre impossibile. Poi, insomma, la città, la Ferrara è una città piuttosto calma, tranquilla, no? Quindi alla notte vorrebbe l'assoluto senso. Ti prendi uno stabile in periferia e ti vai a vivere da solo. Esatto. E questo è. Simone, allora, avrei tante cose da chiederti ancora, però visto che abbiamo tempi contingentati anche noi, io volevo però parlare anche della tua attività in parallelo che è partita nel 2019, quella legata alla protezione civile. Sì. Cosa hai combinato dal 2019? Cosa ho combinato? Una rapidissima premessa. Avevo, vabbè, partecipato attivamente al terremoto del 2012, no? Nelle nostre aree. Subito dopo ho partecipato con la protezione civile nel 2016 all'intervento del terremoto Centro Italia e ho fatto una settimana matrice in cui oltretutto ho avuto la fortuna di prendermi l'ultima scossa di novembre, per cui me la sono... Ah, era proprio l'area nel momento in cui sei stato? Sì, nella scossa del novembre, l'ultima, quella che raso definitivamente al suolo, quella povera zona, ero là. Immagino lo shock e anche l'emozione vissuta, insomma, è negativo ovviamente. Sì, certo. Puoi immaginare che era la mattina presto, ci siamo trovati a terra e le ultime macerie che producevano il fumo è stato abbastanza... Quindi dopo questa ultima esperienza traumatica mi sono detto se potevo fare qualcosa in più per la mia città, visto che comunque nel 2012 qualcosa avevo fatto. Certo. Quando sono stato eletto all'interno del consiglio direttivo del collegio di geometri di cui ancora faccio parte, avevo la forza di 500 e passi scritti dietro di poter organizzare qualcosa. E così grazie a una serie di... grazie a degli amici, colleghi in cui credevano in questa cosa abbiamo creato l'associazione che ha il nome di AgePro e che è l'associazione Geometri Volontari di Ferrara. Anche se faccio una piccola parentesi, l'associazione prende geometri e non geometri, perché il volontario di protezione civile deve nascere per ordinamento sotto una bandiera, sotto un nome, ma alla fine chi vuole fare protezione civile è ben accolto. Certo. Comunque, insomma, un ruolo importante che hai assunto dal 2019, che ti ha visto insomma al centro di tante attività, e tra l'altro una di queste c'è proprio domani, o perlomeno, visto che questo programma va in onda il giovedì su Telestense e il venerdì su Telesanterno, specificiamo la data, venerdì 21. Sì, venerdì 21. Che cosa succede, a che ora, dove, così spieghiamo bene. C'è una bella manifestazione, si chiama Io sono la protezione civile, venerdì 21 dalle ore 8 alle ore 12 e 30 presso il coordinamento provinciale della protezione civile in via Marconi, accoglieremo i bimbi della scuola primaria, 180 bambini, a cui faremo vedere come funziona la protezione civile, faremo vedere i mezzi, faremo vedere le associazioni, ci saranno le associazioni cinofile che faranno vedere l'addestramento dei cani dediti alla ricerca di persone scomparse, offriremo una piccola merenda, insomma, faremo vedere com'è la protezione civile. Beh, io credo che per i bambini sia sempre un momento molto emozionante questo. Sarà un momento emozionante. Si divertiranno, sicuramente. Ci saranno i camion, ci saranno le cose, ci saranno queste cose, i cani, ci saranno... E si vuole dare un segnale, anche grazie all'iniziativa del Comune di Ferrara, cercando di far capire il valore della protezione civile, perché non sempre si può contare, ma non perché non ci siano, ma perché numericamente non ci sono sempre sufficienza volontaria o sufficienza ci sono vigili del fuoco che fanno il massimo che possono fare, ma con pochi mezzi di disposizione. Ma sai, poi ci troviamo sempre nel contesto in cui non ci si pensa affinché non capita la disgrazia, poi nel momento in cui capita hanno tutti bisogno, perché poi, e non parlo solo dei terremoti, mi viene in mente per esempio che capita una grandinata o un allagamento, tutti chiamano immediatamente e vogliono subito un aiuto. Tanto è vero che due mesi fa abbiamo fatto la protezione civile, abbiamo fatto una donazione ai vigili del fuoco, che avevamo fatto una manifestazione, un pompiere per un amico, e avevamo, grazie a una raccolta fondi, donato una pompa di sollevamento acque per cercare di incrementare questo genere di situazione. Anche se adesso viviamo grande siccità, ma comunque quando arriva, arrivano le bombe d'acqua. E' quello il problema, che appunto non c'è la mezza misura mai. Non c'è la mezza misura. C'è la mezza misura nella SPAL secondo te, oppure... Visto che è così, guarda, andiamo a chiudere questa chiacchierata. Che coltellata che mi stai dando. No, facciamo così, faccio una premessa per chi non ti conoscesse, Simone Bonazzi è intanto un grande tifoso Spallino, ma sei anche un sostenitore come sponsor, giusto? Sì, da quest'anno ho fatto anche lo sponsor per la SPAL, sì. Vabbè, permesso che insomma, come dice anche Oddo, fino all'ultimo... È vero. Ecco, la matematica ancora non ci condanna. No, la matematica non ci condanna, la stagione è stata travagliata contro ogni pronostico, come ti ricordi, in trasmissione non abbiamo mai pensato di dover finire... Assolutamente no. ...in queste ultime posizioni. Purtroppo se la matematica dice che a questo punto del campionato abbiamo questi punti, non si può più parlare di sfortuna. No, no, assolutamente, anzi devo dire che poi l'ultima occasione è sprecata con il pareggio di sabato scorso. Certo, allo stadio a quel punto mi sono seduto e non ho più parlato. Guarda, voglio sperare, voglio sperare vivamente che la SPAL possa salvarsi. Allora, ti faccio la domanda generica, non riferita alla SPAL. Tu sei tendenzialmente ottimista oppure sei più prudente in genere? Io ho una dicotomia interna, ho una parte da tifoso che visceralmente spero che si salvi, ho un'altra parte che alla luce delle prestazioni ho paura che faremo molta fatica. Anche perché tu, essendo un uomo concreto, nel senso che hai sbattuto il muso spesso con il tuo lavoro in tante situazioni diverse, insomma hai un polso della situazione. Certo, certo. Quello che, vabbè, allora facciamo così, intanto anticipiamo che molto presto ti rivedremo a match, ma questo per quello che riguarda la SPAL, però per l'attività lavorativa sicuramente insomma intanto ti faccio, cosa preferisci? Bocca al lupo, se diciamo bocca al lupo. Quello che tu desideri. Viva al lupo, dai. Viva al lupo. Viva a qualsiasi cosa, qualsiasi animale in questo momento. Insomma comunque ci hai dato una bella lezione, devo dire, per la capabilità che hai avuto nel portare avanti la tua attività, che ovviamente ci auguriamo possa andare avanti. Ti ringrazio Nicola. A lungo termine, ok? Grazie, mi fanno piacere le tue parole. Allora grazie dunque al geometra, Simone Bonazzi, lo specifico adesso dunque, che ci ha raccontato il suo case history, diciamo così. Noi adesso con Simone ci fermiamo, ma lo rivedremo ovviamente in altri contesti. Tra poco invece parliamo di un altro tema molto delicato, parliamo con Francesco Gattus, che è presidente del comitato ferrarese Area Disabili, ci racconterà la sua storia anche di malato di sclerosi multipla e sarà molto interessante perché anche lui comunque vede sempre il bicchiere mezzo pieno. Ne parliamo tra poco. Ed è un detto tra noi con tante storie questa sera, abbiamo salutato quindi Simone Bonazzi, geometra, che ci ha raccontato un po' il suo percorso lavorativo e professionale. Adesso invece, come dicevo poco fa, tocchiamo un tema molto delicato, ma devo dire con una persona molto vitale, lo conoscerete tra poco con noi. Allora, lui è responsabile, anzi presidente del comitato provinciale Area Disabili appunto di Ferrara ed è anche presidente dell'Aism di Ferrara. Si chiama Francesco Gattus e gli do il benvenuto. Ciao Francesco, benvenuto, buona serata. Grazie mille, grazie per l'ospitalità. Allora, è un piacere da parte mia perché ovviamente, insomma, ti vediamo già ecco sulla carrozzina, per cui insomma sarà sicuramente un'intervista credo anche toccante dal punto di vista emotivo e ti ringrazio fin da subito perché hai accettato un po' di raccontare la tua storia e la tua vicenda che è legata al fatto che sei un malato di sclerosi multipla, giusto? Sì, la sclerosi multipla, chi non lo sapesse, è una malattia neurologica, cronica, che colpisce soprattutto i giovani ragazzi dai 20 anni ai 40 anni. È una malattia prevalentemente femminile, sono colpite moltissime persone, nel nostro territorio sono colpite quasi mille persone, nel ferrarese, ed è una malattia che insomma porta diverse precisità, dalla vista alla mobilità, alla stanchezza cronica e infatti molto spesso questa patologia viene chiamata una patologia invisibile agli occhi delle persone. Oggi a me mi vedete in carrozzina però ci sono delle persone insomma che pur avendo la sclerosi multipla non si vede ma chi ha la sclerosi multipla purtroppo ha dei sintomi veramente che sono invisibili. Parliamo della stanchezza, parliamo del formicolio che è una cosa poco conosciuta dalle persone che non hanno questa patologia qua. Ecco, tu adesso quanti anni hai oggi? Io ne ho 35. Ecco, e hai iniziato a avere i primi sintomi quando? Allora, io ho avuto i primi sintomi nel 2007, diagnosticata poi negli anni a venire perché è una malattia molto difficile da diagnosticare. Me ne sono accorto proprio con la vista perché ho avuto una neurite ottica, un esordio che è molto comune nella sclerosi multipla e poi ho avuto dei problemi insomma di mobilità e via andare. Ce ne sono diversi poi sintomi della sclerosi multipla. Allora, prima di parlare del tuo ruolo che hai oggi, che sicuramente poi insomma andremo a evidenziare tra poco, tu prima mi hai detto una cosa mentre eravamo in pubblicità che mi ha molto colpito, vorrei che insomma ce la raccontassi. Mi hai detto che quando nel 2016 ti è stata ufficialmente diagnosticata dopo nove anni quella che era la patologia, è stata quasi la liberazione di un peso per te. Come mai? Sì, perché quando una persona sta per tantissimi anni con dei sintomi, dei sintomi che sono invisibili come accennavo poc'anzi, diventa difficile poi per gli altri capire che che cosa hai. Proprio parliamo del sintomo della stanchezza, la stanchezza è un sintomo che è proprio invisibile. quando una persona dice sono stanco, molto spesso dice è una persona pigra, è una persona che non ha voglia di fare determinate cose. In realtà quello è stato già un campanello d'allarme per me, perché avere una stanchezza cronica a vent'anni insomma non è normale. Certo, è qualcosa di anomalo ovviamente, certo. E dunque quello là è stato proprio il sintomo più pesante. Poi un giorno come ragazzo ventenne ho preso una bicicletta, stavo andando sul lungomare di Rimini, stavo andando a casa perché in quel periodo lavorava a Rimini, caddi dalla bicicletta e non capivo la caduta di questa bicicletta. E là insomma poi sono andato in pronto soccorso e ho incominciato a fare i primi esami strumentali che sono la resonanza, sono liquor, sono insomma diversi esami che poi dopo ti portano alla diagnosi. Certo, a capire quello che ti era successo, che poi insomma ti è stato ufficializzato nel 2016. La tua vita è cambiata? La tua vita... cosa è successo? Perché tu dici è stata una liberazione di un peso perché ho capito cosa avevo, però immagino che questo poi ti ponga davanti tanti quesiti per quello che riguarda il tuo futuro. Allora la mia prima paura, io dico sempre che la sclerosi multipla colpisce prima di tutto noi che la viviamo in prima persona, ma poi colpisce anche chi ti circonda. Perché comunque quando hai un problema, poi dopo diventa anche un problema degli altri, di chi ti sta vicino. La mia paura più grande ovviamente è stata da ragazzo ventenne, il lavoro. Il lavoro è... immaginiamo che, come ti ho detto poc'anzi, questa patologia avviene soprattutto alle donne. A vent'anni una persona ha dei progetti di vita importantissimi, pensiamo solo ad avere anche un bambino, avere una famiglia. Dunque mi metto anche proprio nei panni di una donna che gli viene diagnosticata questa patologia e dice come sarà il futuro. Devo dire che per me, quando mi hanno diagnosticato questa patologia, è stata una liberazione. Una liberazione perché ho scoperto finalmente di che cosa era affetto da sclerosi multipla. Oggi sono contento perché so di che cosa mi sto curando. La ricerca ovviamente ha fatto dei grossi passi da gigante. Devo anche ribadire che quando si parla di sclerosi multipla, un tempo era sclerosi multipla, carrozzina. Adesso finalmente non è più così. Con le diverse cure, con le diverse figure professionali che abbiamo nel territorio, è cambiata la panoramica della sclerosi multipla. Ecco, questa cosa devo dire... ecco, tu trasmetti molta positività. Così come me l'avevi trasmessa al telefono, devo dire che anche raccontando quello che stai dicendo, pur raccontando una vicenda sicuramente drammatica da superare, forse ancora più psicologicamente che fisicamente, però insomma sei sempre molto positivo come persona, tanto più che il tuo impegno è assolutamente... anzi è duplice addirittura. Quindi presidente area disabili e presidente AISM, che è appunto l'associazione della lotta contro la sclerosi multipla. In particolare, per quello che riguarda però l'area disabili, appunto tu rappresenti tantissime associazioni, giusto? Sì, allora, devo dire che quando mi hanno diagnosticato la sclerosi multipla, io c'è stato un periodo che non sapevo che cosa mi capitasse in futuro. Dunque ovviamente mi sono documentato tantissimo, mi sono documentato a livello lavorativo, a livello di legislazione, di diritti, di tutto quello che riguarda insomma il mondo della disabilità. Questa mia conoscenza poi dopo l'ho voluta portare anche verso le altre persone che purtroppo vivono una patologia, una condizione. ed è nata così. Due anni fa ho incontrato a Ferrara una persona che mi ha aiutato, che è Fausto Bertoncelli. Ti salutiamo perché è un personaggio ben noto, devo dire, a Ferrara per tante vicende. Mi ha un po' inserito nel mondo della disabilità, mi ha coinvolto come comitato area disabili e mi ha chiesto se ero interessato a rappresentare a oggi 50 associazioni, 50 anche a livello fisico, ed è un numero molto importante nel territorio, perché come comitato portiamo voce corale alle associazioni che sono molto importanti nel territorio. Parliamo di scuola, di lavoro, di accessibilità, di turismo. Il comitato insomma si occupa di queste tematiche. è un ruolo molto importante perché insomma molto spesso non è facile portare voce alle associazioni, però insomma col comitato che rappresento, che devo dire che ha fatto un compleanno, due anni fa, ventesimo compleanno del comitato, che insomma è importante, ricordarlo mi fa onore. Certo, guarda, io vedo anche un certo orgoglio mentre ce lo racconti di quello che ricopri, tra l'altro hai citato Fausto Bertoccelli che è segretario, ricordiamo Paola Perini, vicepresidente. E leggo dai gruppi di lavoro praticamente che sono quattro i punti cardine, quindi mobilità, accessibilità, vita indipendente, sport e turismo, scuola e lavoro. Questi sono i punti per cui vi battete, tra virgolette, insomma. Allora, questi qua sono i punti in cui ci battiamo perché poi alla fine racchiudono in questi quattro punti la vita indipendente delle persone che hanno bisogno. Abbiamo presentato questi piani di lavoro, questi gruppi di lavoro, scusate, che sono importanti da portare poi sia alle amministrazioni, all'ASP, a tutte quelle amministrazioni che insomma ci aiutano poi a portare avanti questi temi. Certo, quindi insomma rappresenti, dicevi, 50 associazioni, 50 soggetti con immagino le più disparate problematiche perché comunque tu ne hai una ben precisa, chi ti affianca sicuramente ne avrà altre e quindi insomma riuscire a dare voce a tutti e mettere tutti d'accordo credo che sia anche impegnativo da un certo punto di vista, anche se immagino ti dia anche molta soddisfazione. Sì, è impegnativo però sì, quando poi dopo arrivi al dunque è una cosa molto bella. Certo. Devo dire che dei passi sono stati fatti ma ce ne sono tantissimi da farne ancora perché quando si parla di disabilità è un argomento talmente complesso è anche molto difficile poi da portare agli occhi delle persone. Per esempio stiamo facendo un lavoro bellissimo nelle scuole, portare anche voce e conoscenza delle persone con disabilità nelle scuole è già un passo importante. però vedo che questo argomento è molto più complesso anche a livello proprio di persone che sono molto più adulte perché oggi sicuramente la scuola ti porta ad avere conoscenza. Forse un paio di anni fa ancora no. Per esempio parliamo delle difficoltà che noi persone con disabilità affrontiamo tutti i giorni il solo andare in un negozio e quando un negozio non è accessibile la diventa veramente un ostacolo per noi perché una persona che non ha una disabilità può entrare e io invece non posso entrare. Ma questo secondo te è dovuto semplicemente anche un po' a una sorta di ignoranza non nel senso offensivo, cioè nel senso che persone che non hanno certi problemi non ci pensano c'è una disattenzione oppure secondo te c'è ancora un motivo, non lo so, più critico nel senso che comunque non ci si pensa a voi, tra virgolette, a chi ha delle disabilità. Ma guarda, allora, noi come comitato diciamo sempre che molti spazi commerciali vengono aperti dagli amministratori comunali, gli amministratori comunali sanno benissimo le linee guida quando aprono i negozi come aprirli, però molto spesso vediamo degli amministratori che vanno a inaugurare dei negozi ma non sono accessibili, là è un grosso problema. Guarda, hai sicuramente ragione, adesso noi qua non parliamo di politica, non entriamo nel merito, però effettivamente hai sicuramente ragione su questo, c'è da dire, e te lo dico proprio così visto che è una chiacchierata molto libera questa, che anche il fatto stesso che tu sia entrato oggi nei nostri studi mi ha posto dei problemi che abitualmente non mi pongo, cioè nel senso che anche noi abbiamo qualche piccolo ostacolo, tra virgolette, ed effettivamente mi rendo conto che a volte non ci si pensa, capisco che può sembrare egoista come argomento, come tema che sto affrontando, però credo che a volte ci sia anche proprio una disattenzione. È ovvio che oggi siamo a un livello in cui ci sono persone che come te danno voce a queste tematiche quindi deve essere un problema importante quello che tu evidenzi, so anche che ci sono per esempio villaggi al mare che sono studiati apposta per persone che hanno disabilità, insomma devo dire che comunque è un tema molto più affrontato, molto più sensibile, però probabilmente a volte ci sono ancora molte disattenzioni in questo senso e speriamo che magari il vostro alzare la voce, che è un diritto che avete, anzi devo dire che ti ringrazio che lo fai anche da noi questa sera, possa accendere un po' gli animi anche di tutti quanti, ecco non soltanto di chi magari è un po' più sensibile. Sì, è detto giusto, tra l'altro sfruttare delle persone che sanno e conoscono queste tematiche è importante, Ferrara ne ha tante persone che si possono sfruttare, apportare proprio conoscenza di queste tematiche qua. Diciamo che siamo molto fortunati come a Ferrara, ci sono altre città. Adesso io non voglio fare confronti con altre città, però insomma sicuramente è un tema su cui c'è molta sensibilità. Senti Francesco, ieri quando ci hai sentito al telefono, o l'altro ieri adesso non ricordo, mi è molto colpito una frase che mi hai detto, hai detto che quando hai saputo della malattia insomma che avevi non è stato soltanto negativo ma ti ha dato anche delle opportunità addirittura. E questa cosa mi ha colpito tantissimo perché è raro se non quasi unico il fatto che qualcuno veda il bicchiere mezzo pieno anche di fronte a una situazione del genere. Che opportunità ti ha dato questa... Beh allora, quando ti diagnosticano una patologia insomma ti crolla il mondo addosso. Ecco, infatti. Perché a volte io guarda, quando mi hanno diagnosticato questa patologia ero da solo in ospedale e per circa un mese non l'ho detto a nessuno. Mi sono richiuso in me stesso perché avevo paura, paura di proprio affrontare questo argomento qua. avevo paura perché lavorando anche avevo paura di perdere il posto di lavoro. Invece poi dopo mi sono dato forza, sono stato circondato da persone che mi hanno aiutato come poi l'associazione anche Sclusi Multipla mi ha aiutato moltissimo ad affrontare questo percorso perché poi è proprio un vero percorso che fai e mi ha dato l'opportunità, io lo dico sempre, di nuove conoscenze perché la vita non mi si è fermato. Anzi, se prima facevo un viaggio all'anno adesso ne faccio tantissimi. Lo sei mai fermo in pratica. Sì, non sto mai fermo, scopro nuove cose, ho conosciuto tantissime persone che mi hanno arricchito, arricchito proprio a livello di animo. E anche il ruolo che rappresento oggi, insomma, mi ha dato un'opportunità. Mi emoziono un pochettino perché sicuramente sto... No, ma capisco, capisco sicuramente che è un momento delicato per te raccontare e raccontarti, insomma. Però devo dire che è molto bella questa sincerità che ci stai trasmettendo perché come la colgo io immagino che la colga chi ci sta seguendo da casa in questo momento. Ti faccio una domanda un po' delicata, però dimmi tu se vuoi rispondere o meno. Tu pensi mai al tuo futuro? Cioè come ti vedi tra qualche anno o navighi a vista, diciamo? Beh sì, certo, io ho tantissimi progetti per il futuro, ci penso sì, ci penso tutti i giorni. Certo. Perché penso, io penso alle migliaia di persone che oggi viene diagnosticata una qualunque patologia e si racchiude in se stesso. Io dico non fatelo perché non ne vale la pena, perché il mondo va avanti. Viviamo fortunatamente in un mondo dove si è evoluto. Sicuramente molte persone mi vedono sfrecciare col mio trilide in piazza. Se prima correvo con le gambe, oggi corro con quello. È diverso, sicuramente è diverso, però faccio le stesse cose che facevo prima. Viaggio, o voglio andare a sciare, lo faccio. Di sciare, di sciare. Ci sono delle strumentazioni che ti permettono di sciare anche. Viaggiare, viaggio tantissimo. Ci sono dei mezzi che ti permettono di poter viaggiare. Forse faccio più di quello che facevo prima. E questo è molto bello. Ora guarda, ti do un due minuti di relax, un minuto e mezzo, dove tra l'altro ti vediamo anche in realtà. Perché noi ci siamo conosciuti in realtà qualche settimana fa, quando è stato aperto alla città della San Rocco. Aiutami perché non mi ricordo il nome esatto. Lo sportello. Lo sportello. Vabbè, insomma, legato alle disabilità. Entrambi non ce lo ricordiamo il nome esatto. Mi sono emozionato, scusate. Però è uno sportello che dà una mano e aiuta appunto chi ha disabilità. Noi mostriamo soltanto una porzione di alcune interviste. Ci sei anche tu in mezzo, così ti vedi. Dopo magari ti giudichi anche quello che mi hai detto. Vediamo appunto che cosa è stato inaugurato e che cosa ha agevolato, insomma, chi ha della disabilità. Vediamo il servizio. Importante per due motivi. Il primo perché è un servizio molto fruibile da parte degli utenti della cittadinanza, per cui contribuisse ad andare avanti nel famoso percorso di passaggio da casa della salute a casa della comunità. Cioè non solo un punto, una struttura, un edificio in cui eroghiamo servizi sanitari, ma anche viene realizzato servizi di interesse sociale. Utilissimo come ubicazione, come fruibilità, come accessibilità per i cittadini. Ma utile è anche, e questo è il versante USL, per gli operatori sanitari. Noi sappiamo quanti sono i servizi delle nostre aziende, dell'azienda USL, che interagiscono direttamente con questa struttura. Questo sportello intanto è stato voluto tantissimo dal comitato. Abbiamo dato una mano a realizzare questo sportello, che è molto importante. Dove il comitato comunque avrà anche un ruolo di monitoraggio di questo sportello. Un importante servizio che è totalmente gratuito per i cittadini e dà la possibilità, insomma, di dare delle risposte anche perché è in una posizione etatica come la cittadella del San Rocco. Uno sportello che dà un luogo nel quale trovare informazioni, ascolto e anche un inizio di un percorso verso, diciamo, appunto le risposte che cercano i cittadini, sia i cittadini con disabilità e anziani, ma anche i loro familiari, gli operatori che li seguono. E quindi è un momento importante anche per riuscire ad avere chiarezza di quelli che sono i propri diritti, le informazioni sulle opportunità e così via. È molto importante che sia all'interno di una sede nella quale poi i cittadini possono trovare altre risposte, sia di natura sanitaria ma anche di natura sociale, con l'assessorato alla salute del Comune di Ferrara e anche le associazioni con le quali collaboriamo quotidianamente proprio per dare maggiori opportunità e informazioni ai cittadini. Ecco, sportello sociale non autosufficienza, questo non è preciso. Avete visto che c'era anche l'assessore Coletti, tra l'altro, e insomma tanti altri che hanno partecipato all'interno della cittadina del San Rocco, quindi l'ex Sant'Anna di Corso Giovecca. È che questo credo che sia un tassello in più della sensibilità che c'è nei confronti di chi è disabile. Sì, è uno sportello molto importante perché, come ho detto prima, è uno sportello che è molto tattico, è all'interno proprio del vecchio ospedale e dà delle informazioni alle persone, e non solo disabili, ma anche ai familiari, per migliorare quello che è la vita quotidiana di tutti noi. Parliamo dalle domande che si fanno, mobilità, case, lavoro, per le barriere architettoniche, per le barriere architettoniche. Da quest'anno hanno messo anche l'ausilioteca, che è un problema molto grosso a Ferrara. È uno sportello che, mi auguro, dia più informazioni e anche di avere maggiore consapevolezza dei diritti che le persone con disabilità, e non solo, hanno. Allora, io, Francesco, ti ringrazio perché devo dire che stasera ci hai dato una bella lezione, nel senso che comunque tu hai semplicemente raccontato la tua quotidianità, che magari molti ignorano, e quindi credo che, anzi, mi auguro che abbia aperto la sensibilità anche di altre persone ancora. Ovviamente ti auguro di rimanere Presidente a lungo, per cui ho visto che hai tanta voglia di fare, quindi questa sicuramente ti premia, di entrambe le associazioni, tra l'altro, per cui ti auguro buon lavoro. E, niente, cosa ti posso dire? Magari ci ritroviamo tra qualche mese, magari se ci sarà qualche risultato ottenuto ben volentieri lo comunicheremo, e speriamo, insomma, che la ricerca in particolare possa andare avanti per migliorare la vita di tutti voi. Sicuramente, grazie mille. Di tutti noi, poi, in generale, perché hai detto che comunque, a parte che può colpire chiunque, per cui, insomma... Quando si parla di disabilità parliamo sempre delle malattie, ma prima o poi, purtroppo, anche a livello di una popolazione anziana, insomma, siamo coinvolti tutti. Esatto, esatto. Per cui, insomma, tutti navighiamo visti in qualche modo, quindi nessuno può avere mai certezze sul suo futuro. Grazie, Francesco Gattus. Grazie mille. Niente, con te, quindi, chiudiamo questa puntata di Detto Tra Noi, che torna tra sette giorni. Vi ricordo, comunque, che le puntate potete rivederle sul canale YouTube di Telestense. Ancora buona serata. Grazie. E alla prossima. Buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti.